Con questo tutorial andiamo a dimostrare l'equazione dell'ellisse. Ricordiamo la definizione. Assegnati nel piano due punti F1 e F2, si chiama ellisse, il luogo geometrico dei punti P del piano, tale che sia costante la somma delle distanze di P da F1 e da F2. In simboli possiamo dire che P F1 più P F2 deve risultare una quantità costante. Quello che noi dobbiamo andare a dimostrare è che l'ellisse ha questa equazione x quadro su A quadro più y quadro su B quadro uguale a 1. Questa equazione viene chiamata equazione canonica o equazione normale dell'ellisse. In figura abbiamo disegnato un'ellisse dove questo è il fuoco 1, quest'altro è il fuoco 2. Il fuoco 1 ha coordinate C0, il fuoco 2 meno C0. Indicheremo con 2C la distanza tra i fuochi, quindi questa distanza è pari a 2C e viene chiamata distanza focale. Mentre chiameremo 2A la somma costante delle distanze dei punti dell'ellisse dai fuochi. Ora abbiamo tutti gli elementi per ricavare l'equazione dell'ellisse. A partire da questa formula dovrò calcolare la distanza punto fuoco 1 più punto fuoco 2. Applicando due volte la formula della distanza tra due punti otteniamo questa relazione. Ora prendo questa quantità e la porto a destra. Elevo ora al quadrato tutte e due i membri. A primo membro sarà sufficiente togliere la radice con la potenza 2 e quindi ottengo questa quantità. Qui devo andare a sviluppare il quadrato di binomio dove questo è il quadrato di 2A, questo è il quadrato del radicale e questo è il loro doppio prodotto. Posso semplificare ora y quadro con y quadro e poi vado a sviluppare questi due quadrati di binomio. Posso semplificare ora x quadro con x quadro e c quadro con c quadro. Porto ora il radicale a sinistra e 2xc a destra e lo vado a sommare con meno 2xc. Osservo ora che posso dividere tutti e tre i termini per 4 ed ora elevo al quadrato questa quantità e questa quantità. In questo modo posso togliere questa radice. A alla seconda vado a scrivere alla seconda, questa radice lo tolgo con questa potenza 2 e poi ho sviluppato questo quadrato di binomio. Qui a destra ho sviluppato il quadrato di binomio. Ora eseguo questa moltiplicazione. Osservo ora che posso andare a semplificare questa quantità con questa quantità. Porto ora x alla seconda e c alla seconda a sinistra e alla seconda c alla seconda a destra. In questi due termini posso mettere in evidenza x quadro, mentre qui posso mettere in evidenza a alla seconda. Effettuo ora un cambio di variabile. Vado a porre a alla seconda meno c alla seconda uguale a b alla seconda. Divido ora tutti e tre i termini per a alla seconda b alla seconda. E adesso posso semplificare b quadro con b quadro, a quadro con a quadro, tutto a 2b2 con tutto a 2b2 e qui mi rimane 1. Allora quello che mi resta complessivamente è x quadro fratto a quadro più y quadro fratto b quadro uguale a 1, che è proprio l'equazione canonica dell'ellisse che dovevamo dimostrare. E con questo termino il tutorial sulla dimostrazione dell'equazione dell'ellisse.